Attivare finanziamenti attraverso la regione Campania per risolvere i problemi di sempre della mobilità a Salerno e nella sua provincia. Realizzare la bretella che colleghi la stazione di Fisciano all'Ateneo, allungare la metropolitana fino a Battipaglia, riattivare la circun salernitana e riattivare la sicignano Lago Negro. Ed ancora mettere mano alla rete viaria salernitana guardando soprattutto alla provincia dove i frane di Sesti hanno isolato intere comunità. A relazionare su quello che si dovrebbe mettere in campo per una politica dei trasporti efficiente Pasquale Amoruso, già segretario generale della FIT di Salerno, della CISL, che interviene anche sulla vicenda della portualità esprimendo un secco nodo del PSI all'ipotesi di accorpamento delle autorità portuali di Napoli e Salerno, è l'auspicio che al più presto si completi Porta Ovest. Non manca l'analisi sul trasporto pubblico su gomma con un duro attacco a quegli enti che hanno abbandonato al suo destino il CSTP, strategico per una nuova politica del trasporto urbano che ha per il Partito Socialista salernitano un obiettivo preciso, decongestionare le strade cittadine dal traffico privato. Riteniamo che la città di Salerno vada liberata dalle auto, dalla morsa delle macchine. Sotto questo aspetto noi lanciamo un'idea nuova, considerando oggi che la tecnologia ci consente di avere dei mezzi altamente sostenibili da un punto di vista ambientale, parlo soprattutto di mezzi elettrici, noi lanciamo l'idea di utilizzare per Salerno, così come sta avvenendo in altre realtà d'Italia, altre città, pensiamo di utilizzare filobus, mezzi elettrici a monorotaia, tram, minimetro, cioè tutta una serie di nuovi mezzi elettrici che sono non solo sotto un aspetto economico sostenibile, ma soprattutto sotto l'aspetto ambientale, in modo da dare anche alla città di Salerno, come si suol dire, un mezzo di trasporto europeo. Grazie.